ciao a tutti bentrovati nuova puntata di chiacchiere tra prof ciao Adele ciao Marilena e ciao a tutti i nostri amici siamo qui ritornati con le nostre fantastiche chiacchiere ma stavolta non siamo da sole no no assolutamente le nostre chiacchiere non le faremo in due ma le faremo in tre oggi abbiamo il piacere di ospitare in chiacchiere tra prof una carissima amica collega che ultimamente insomma abbiamo più volte incontrato ci siamo sentiti abbiamo deciso di creare questa puntata pre natalizia proprio tutta dedicata delle attività interattive interessanti e chi abbiamo Adele con noi abbiamo una collega insegnante e così siamo di inglese poi altro indizio è una google certified trainer e coach come noi fa parte dei supporter di jeg italia altro indizio è della valdaosta e lavora all'ufficio scolastico regionale quello che noi chiamiamo ufficio scolastico regionale e si occupa di didattica digitale integrata di formazione ai docenti della valdaosta e come ultimo indizio è ambassador book widget e proprio di book widget parleremo oggi proprio con claudia pisanotti ciao claudia ciao a tutti grazie per l'indito ciao a tutti sono molto contenta di essere qui con voi e di esplorare insieme a voi book widgets in versione christmas grazie claudia di aver accettato l'invito è un po che ci pensiamo e abbiamo pensato appunto di dedicare la puntata natalizia a walk widget insieme a te che sicuramente sarà una puntata esplosiva allora intanto cominciamo a dire no che cos'è book widget e come lo possiamo utilizzare insomma facci conoscere questo mondo perché noi nelle chiacchiere non ne abbiamo mai parlato esatto va bene io vorrei presentare così da essere esaustiva quindi andrei a cliccare presentazione e andrei a condividere mio schermo allora condividi schermo eccolo qua andiamo a eccolo ditemi se vedete bene ecco qua grazie allora inizio parlando di book widgets come strumento interattivo a tutto tondo perché perché book widgets è una piattaforma di apprendimento digitale che consente agli insegnanti di creare facilmente lezioni interattive e multimediali al fine di progettare attività significative e soprattutto motivanti per l'apprendimento dei nostri ragazzi si compone di quattro assets che possiamo trovare su computer tablet e telefono i quattro assets sono qui davanti a noi ovvero una biblioteca di attività vi farò vedere dopo quale tipo di attività che sono già pronte per noi perché troviamo centinaia di esempi nel nostro blog di book widgets che sono gratuiti per tutti coloro che hanno book widgets poi troviamo un'integrazione sia con teams che con classroom quindi i nostri ragazzi in tempo reale possono condividere con noi il loro lavoro e noi possiamo vederlo grazie a classroom e non solo possiamo monitorare i progressi dei nostri allievi andando a sviluppare i loro punti da migliorare e come posso dire e le loro i loro asset quindi tutto ciò che è che è competenza che è motivazione che gli spinge sempre a fare meglio e lo vediamo in tempo reale vi farò vedere grazie a un pannello di controllo che l'insegnante ha per vedere a che punto è l'allievo e che cosa sta facendo parlando di una vera piattaforma completa no i decisamente completa che vada realizzazione dell'esercizio alla stegnazione alla correzione si è proprio per quello che dicevo a tutto tondo proprio perché l'insegnante anche l'insegnante alle armi non deve avere paura di book widgets perché book widgets si segue passo ed è veramente come vedete qui una piattaforma con tantissime tantissime già fatte per noi e se ci sentiamo pronte anche da fare quindi veramente è una cosa è una piattaforma eccezionale uno strumento davvero utile per la nostra didattica di tutti i giorni per ogni ordine e grado e questo ci tengo a sottolinearlo perché e sì è importante perché perché anche la scuola dell'infanzia si usa book widgets chiaramente con competenze differenti però sia dalla scuola dell'infanzia che la scuola primaria che la primaria che la secondaria di primo e di secondo grado possiamo usare book widgets con competenze abilità e attitudini differenti per i nostri ragazzi quindi francamente è uno strumento versatile e soprattutto facile da usare una cosa per me importante da sottolineare per quanto riguarda la libreria è sì veramente guarda marilena eccezionale per quanto riguarda la libreria abbiamo tantissime attività più di 40 perché all'interno di questi widgets abbiamo ancora altri widgets che si nascondono lo vedremo tra poco quindi qui abbiamo il foglio di lavoro la lavagna interattiva la linea del tempo il foglio di lavoro frazionato da una parte mettiamo audio video come posso dire cose che ci che aiutano i nostri ragazzi apprendimento quindi anche materiale interattivo podcast e quant'altro dall'altra parte invece abbiamo esercizi mirati che abbiamo creato noi o che abbiamo tradotto da colleghi di tutta europa qui abbiamo ad esempio anche la lavagna che lavora nella stessa maniera come il foglio frazionato il quiz la il materiale per creare il brainstorming le flashcards che non vi dico si possono fare veramente delle cose fantastiche con le flashcards perché non è solo stimolo risposto ma possiamo integrare con audio video veramente di tutto di più anche link interattivi eccezionale poi abbiamo diciamo la versione un po ludificata di book widgets quindi abbiamo questo cruciverba particolare la rara il randomize di anche un tool molto utile per creare storytelling il memory la mappa concettuale che si può veramente creare ripeto anche qua con audio video tantissime cose il bingo il puzzle mio preferito in assoluto landman che però in questo periodo vedrete dopo si può sformato in pupazzo di neve il crossword eccetera eccetera io vi dico ce n'è più di 40 non voglio tediarvi ma davvero tantissimi e soprattutto poi facile da usare questa è la cosa che tengo sempre a sottolineare non bisogna spaventarsi davanti a book widgets vedremo poi la piattaforma è veramente semplice e intuitiva e soprattutto la cosa bella che parla italiano quindi non abbiamo neanche problemi questo fondamentale e poi leggiamo leggiamo appunto che hai scritto che sono tutti attitudini previste e abilità nel dig comp 2.2 ricordiamoci sempre il nostro focus il nostro faro diciamo che orienta la didattica sono proprio le competenze europee richieste dal dig comp 2.2 che nella parte educational rientrano nel dig comp edu ma comunque noi dobbiamo formare dei cittadini consapevoli e dobbiamo guardare al dig comp 2.2 proprio così adele è così è così allora qui anche perché immagino che tutti questi lavori che tu hai esposto producono come detto te competenze quindi assolutamente lo critico l'autoregolazione dell'apprendimento e quindi andremo a scoprire un come utilizzarli e sicuramente come detto te nella facilità di utilizzo ognuno di noi troverà la propria strada per applicarlo nelle nella pratica didattica quotidiana esattamente proprio così è proprio allora come vedete hanno creato per noi l'estensione it perché fino a qualche mese fa non c'era quindi sono molto contenta di questa cosa abbiamo come vedete la landing page dove vi dice vi danno appena vi scrivete un mese gratis per provare gli strumenti toccare con mano quanto siano potenti e di facile utilizzo quindi anche qui parlano di 40 modelli compatibili valutazione formativa e sommativa un discorso che sappiamo molto alla une in questi ultimi tempi soprattutto la valutazione dove appunto i nostri ragazzi devono togliersi devono essere come posso dire un po dovrebbero tralasciare questa valutazione normativa che li va che li come posso dire che li fa sentire anche sotto stress no in ansia esatto esatto invece grazie alla valutazione formativa e come posso dire l'apprendimento per competenze questa cosa non avviene più anzi i ragazzi riscoprono l'amore per l'apprendimento e questa è una cosa da non sottovalutare soprattutto al giorno d'oggi bene poi qui eccoci fare farò vedere come si dà il feedback eccetera eccetera questa era la piattaforma dove l'insegnante vede in tempo reale cosa stanno facendo i suoi alunni le integrazioni che non sono appunto solo quelle che ho citato perché chiaramente book widgets è su caso scala mondiale quindi ci sono altri tipi di integrazione e non dimentichiamoci partner google for education detto questo entro nel mio account per farvi vedere ecco qua come come funziona cosa abbiamo sì qui abbiamo la nostra landing page però personale che vediamo solo noi abbiamo nostri widget qui addirittura possiamo fare il live mode i voti e qui è un po mal tradotto glielo già detto ma insomma lo faranno prima o poi i voti e i feedback in pratica i rapportini vabbè e poi il nostro account e il supporto marilena vuoi che faccia vedere adesso vuoi che andiamo a vedere la cartolina di natale che ho creato ma io vorrei vedere subito la cartolina di natale perché siamo molto curiosi e dopo dalla cartolina di natale che è preparato proprio per noi per oggi andremo a vedere come si realizza e quindi tutte le particolarità è la nostra curiosità perché gli amici sicuramente ti conosceranno tu sei una bomba creativa meravigliosa e quindi sono una cosa di vedere cosa hai realizzato grazie grazie anche perché mancano pochi giorni alla fine della scuola e sicuramente claudia tu potrai dare il consiglio per creare in questi giorni qualcosa da consegnare alle famiglie certo volentieri allora vedete qui ho creato la mia cartolina di natale ho utilizzato aspetta che dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare schermo arrivo subito eccomi qua eccomi qua invece della scheda si cerchi perfetto si vede bellissima meravigliosa allora questa questa cartolina di natale l'ho costruita con google presentazioni quindi ho messo all'interno tutto ciò che volevo e tutti i gadget che volevo mettere quindi ho messo me come albero di natale ho messo queste palline interattive ho messo un cagnolino vedete ho lasciato appunto questi punti caldi che i nostri ragazzi possono andare a su cui con cui possono andare a interagire e trovare le attività da fare le attività sono se non sbaglio ma non mi ricordo andiamo a cliccare in inglese ma non sono sicura forse no non mi ricordo non mi ricordo l'ho guardate bene 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 allora questo è il nostro memory vedete questa cosa verde che c'è qui questo ti dice già che tu io ho praticamente condiviso all'interno di questa cartolina di natale un come posso dire un link che che voi potete utilizzare e modificare a vostro uso consumo se non vi piacciono le immagini che ho messo qui dentro non c'è nessun problema si possono cambiare in poche semplici mosse e utilizzare il layout che ho utilizzato io il memory perfetto può essere adesso poi andremo a mettere in descrizione il link a questo questa cartolina così possono insomma modificarla sì 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 assolutamente vi do proprio tutta la cartolina con tutti gli esercizi così le insegnanti che vorranno potranno provarlo sul campo e vedere un po se come quali sono le reazioni dei bambini quali sono i feedback dei loro alunni e dei bambini l'ho tarato per una secondaria di primo grado una ultimo anno della primaria ecco insomma ho provato a tarare in questo senso qui allora bisogna ricordarsi che il memory non è solo un memory in quanto tale ma può essere un memory che ha immagine 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 suono immagine scusate suono suono o definizione quindi veramente è super malleabile facciamo finta che noi abbiamo finito questo ci viene fuori un feedback nella lingua di arrivo che ci interessa di più e se vogliamo che i nostri ragazzi giochino di nuovo con questo memory basta semplicemente andare sul cestino e dire senti basta non le voglio più le risposte ed ecco qua che riazzeriamo si quindi questo può essere un gioco molto molto utile per apprendere il vocabolario in più lingue ma anche per fare esercizi di matematica posso mettere vabbè magari per natale anche no però posso mettere anche a natale vabbè però posso mettere le nostre operazioni e il risultato in un'altra casella insomma ecco per dare un po' la flessibilità ecco l'ho fatto per dirvi come come era questa cosa bene dopodiché andiamo indietro sempre se riesco ad andare indietro non lo trovo più dove finito ti cambio schermo così metti l'altra scheda sì grazie allora anteprima vediamo un po' ecco guardato addirittura ha cambiato proprio il layout vi metto questo ecco adesso lo vedete questo addirittura è il layout con scritto vista studente cosa vuol dire vuol dire che noi abbiamo all'interno della nostra cartolina la possibilità di vedere in tempo reale mentre ci lavoriamo vedete che c'è scritto anche design e stampa quindi andare a vedere proprio in tempo reale cosa stiamo facendo se va bene se il link funziona eccetera eccetera un secondo link che vi faccio vedere è questo qui ovvero come vi ho detto il una specie di storytelling natalizio quindi fai girare le ruote e scrivi una storia di natale includendo le immagini e il testo che sono apparsi quindi insomma ma sì qualcosa di simpatico divertente per intrattenere i nostri allievi e soprattutto per fare sviluppare lessico e competenze trasversali non sono semplici esercizi non sono semplici esercizi di conoscenza sono esercizi di ragionamento di creatività sì 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 non è solo risposta in quanto tale ma è proprio un esercizio che richiede un input più uno quindi richiede davvero che i ragazzi in piccolo gruppo anche in autonomia lavorino insieme per creare competenze quindi creare veramente anche un piccolo scritto può essere anche una storia spezzata no che ognuno di loro fa una frasetta e poi la mettono insieme creano la storia di natale insomma la creatività è il limite sappiamo bene che quando uno ha piacere di fare cose del genere è chiaro che insomma più ci si mette in gioco e più è divertente andiamo a vedere l'altra vediamo un po allora chiudo qui ed ecco che io volevo già farvi vedere un po le varie com'è dietro le quinte di vedete ecco bellissimo perché tu hai messo la cartolina che hai creato con google slides in jpeg png l'hai scaricata e l'hai inserita all'interno una volta che l'hai inserita hai dovuto mettere tutti quegli elementi interattivi sì l'ho semplicemente creati un pochettino prima ma volendo si possono anche creare sul momento perché l'hot spot image ti permette anche questo poi li ho messi all'interno ed eccoli qua in poche semplici mostre ho creato ho creato veramente un esercizio interattivo andiamo avanti volevo farvi vedere un po un sneak peek del dietro le quinte così vedevate un po com'era anche qua ho fatto un quiz adesso il kill sappiamo che va per la maggiore insomma ecco qui c'è il nostro quiz vedete ecco qui non so perché sia unavailable ma avevo messo un altro video pazienza lo cambierò a noi qui dentro qui c'è la possibilità di guardare un video da qui e vedere un esperimento perché qui il layout totale era l'inverno aspettate che vado all'inizio non so perché mi è andato alla fine ma vabbè allora guardiamo un po quindi qui ci sono cioè il perché delle stagioni quindi andiamo proprio a fare il CLIL con le domande a buchi sotto quindi noi abbiamo il test a buchi creato questo test a buchi appunto per la nostra lezione qui interattiva in questo momento e poi ho messo anche il feedback quindi la risposta quindi è può essere anche un discorso di self check perché ho praticamente sviluppato il discorso che c'è all'interno del nostro video e l'ho messo qui sotto poi il secondo questo secondo me è una cosa carina che si può fare in piccolo gruppo ed è anche divertente perché magari qualcosa riguardo alle stagioni proprio non è che insomma che la sappiamo ecco magari mettendoci in gioco in questo senso possiamo imparare divertendoci poi qui che cosa ho messo true or false fatti sull'inverno le affermazioni sono vere o false qui c'è già il preview perché chiaramente siamo nella vista studente con già le cose che noi abbiamo deciso che sono vere o false e poi ci sono le spiegazioni poi ho messo un po una candy cane giusto per renderlo un pochettino più carino e attraente dopodiché che cosa ho messo ecco messo combina le tradizionali vacanze invernali con le immagini ed ecco anche qui un discorso di matching semplicemente con la la festività e il nostro la nostra cartolina poteva essere anche audio o poteva essere anche scritto come vogliamo noi insomma io vi ho dato solo un esempio e poi ho fatto questo 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 quiz della donna delle nevi perché in pratica c'è il pupazzo di neve più grande del mondo quindi insomma vabbè niente queste sono delle piccole cose che ho messo interattive giusto per creare un po questo chiaramente non è hard clear ma è soft clear perché è in italiano ci sono dei pezzi che sono in inglese dei pezzi che sono in italiano un po per i nostri bambini della scuola della fine della scuola primaria o della secondaria di primo grado che non sono completamente bilingue quindi hanno bisogno chiaramente di avere una base solida anche in italiano ecco dopodiché c'era questo video che era carino ma non so perché non mi si vede pazienza adesso poi quando lo condividerò sarà a posto e se noi andiamo a guardare il video vediamo l'esperimento ad esempio io avevo messo l'esperimento di queste signorine in texas che si lavavano i capelli uscivano e come per magia i loro capelli erano completamente gelati in tre secondi ed era simpaticissimo e qui ci sono anche le spiegazioni se tu vai a cliccare qui sopra ci sono le spiegazioni del caso di quello che succede insomma bene scusate sto andando come al solito parlo 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 fermatemi quando volete perché io sono vai vai perché poi vogliamo vedere prima tutto e poi capire un po come si fa perfetto dopodiché vediamo un po allora chiudiamo qui andiamo a prendere un altro esercizio qui clicchiamo sul nostro cagnolino e abbiamo un creative writing scrivi la lettera a babbo natale spiega cosa desideri per quest'anno e cosa desideri per i tuoi cari sia creativo può essere una lettera una canzone una poesia vedete che qui vi dà la possibilità davvero di utilizzare il sistema testo integrato possiamo scrivere veramente più di mille parole possiamo creare addirittura un tema possiamo scaricarlo con la funzione download che giusto qua possiamo creare paragrafi quindi abbiamo proprio la possibilità di utilizzare il rich text format e dare la possibilità ai nostri ragazzi di esprimersi anche scrivendo delle poesie e quindi non iniziando da sinistra verso destra come siamo abituati ma anche in centro e creare delle poesie creative con questi quattro colori differenti insomma ho voluto dare un po come posso dire una panoramica di quello che si può fare un piccolo assaggio veramente di quello che si può fare con book widget tutto in una cartolina quindi vediamo un po come funziona vediamo sono allora adesso dunque c'è una cosa nascosta per di qui che poi vi lascio scoprire che è un regalo per voi ma questo poi lo vedrete in un secondo tempo quando andrete ad aprire la cartolina e giocare allora dentro si si vedrete vedrete allora qui dentro avete visto che ho messo i vari link facciamo finta che io voglio aggiungere un altro hotspot perché secondo me quell'esercizio lì ha bisogno ancora di qualche cosa vado qui sopra semplicemente e mi dice che cosa vuoi un pop up di testo un pop up web quindi un link un'immagine un link web come ho fatto io oppure un video oppure un audio vedete che abbiamo davvero la possibilità di fare qualsiasi cosa sì sì possiamo scegliere qualsiasi cosa facciamo un pop up di testo perché ancora non c'è ti dice in che posizione lo vuoi mettere andiamo subito andiamo subito a allora ci dice già quali sono quelli presi dice non metterne più qui perché allora mettiamoli qui su di me così facciamo un pop up di testo voilà fatto e andiamo a scrivere benvenuti in questa cartolina di natale scusate ma la dislessia che in me è come al solito è sempre io sono disgrafica di brutto allora è così in questa cartolina natale seguite gli indici per arrivare al regalino finale ecco qua bene e così qui vado nella mia anteprima e vedo cliccando qui eccolo qua che mi viene fuori il mio hotspot scritto quindi con le istruzioni non abbiamo neanche bisogno di aggiungere ulteriori istruzioni per i nostri ragazzi perché è già tutto qui vedete è semplicissimo è davvero semplice è semplice e con tante tante possibilità quindi davvero non c'è solo l'imbarazzo della scelta anche come lavoro non è così faticoso perché in realtà è molto guidato se andiamo a vedere il layout noi lavoriamo con buc quidget dall'alto verso il basso adesso mi dice aggiorna perché giustamente ho messo una cosa in più quindi dall'alto verso il basso inserendo informazioni andando a integrare la nostra cartolina in generale ma questo io lo lascerei stare tanto non è che importante la lingua perché noi possiamo cambiare la lingua di arrivo perché ad esempio se stiamo facendo un esercizio di lingua che non è quella di italiano possiamo scegliere quello che ci interessa e quindi ci va anche a segnare gli errori dei nostri ragazzi così anche loro possono correggersi e poi c'è il design che è la cartolina semplicissimo vedete veramente semplice per realizzare questo quale diciamo quale area abbiamo utilizzato perché ci sono tanti esercizi no questo allora vi faccio vedere vi faccio vedere allora qui abbiamo il pannello di controllo come vi dicevo questi sono tutti i widgets che ho fatto quando voglio creare qualcosa vado su crea nuovo widget e qua mi dice già cosa vuoi fare un test e una verifica vuoi giocare oppure vuoi interagire con immagine video e in questo caso noi siamo qui perché io ho usato l'immagine hotspot vuoi la matematica quindi vuoi andare a lavorare con la matematica qui c'è anche addirittura all'interno la calcolatrice scientifica integrata di tutto di più veramente c'è di tutto di più ci sono tantissime cose addirittura ecco qui il modulo per il sondaggio la lista del controllo questi non lo dico la verità non li ho usate molto perché preferisco andare su questa zona qui e sulla gamification chiaramente diciamo che questi tre settori sono quelli che io preferisco di più e trovo che siano anche quelli più interattivi no quelli che ci permettono di fare molte cose insieme ma diciamo che sono funzionali alla didattica assolutamente assolutamente noi lo possiamo utilizzare mille mila modalità poi piccoline non abbiamo per forza la necessità di uno strumento digitale ma possiamo anche andare in analogico certo sono d'accordo assolutamente sì c'è anche la checklist per ad esempio non so se stiamo lavorando e non so facciamo finta che stiamo scrivendo un in classe hai controllato gli errori hai rivisto hai riletto hai guardato di gruppo può essere interessante la lista di controllo devono fare assolutamente sì hanno tentato veramente in belgio sta spopolando e anche in america hanno tentato davvero di aiutare gli insegnanti a tutto tondo hanno iniziato anche loro durante la pandemia era un piccolo gruppo di tre ingegneri volenterosi del belgio che abitano in un piccolo paesino come come fosse un piccolo paesino della val d'aosta e hanno e hanno iniziato a fare questo esperimento e sono riusciti veramente alla grande a creare qualcosa di enorme veramente e che copre comunque trasversalmente tutte le materie perché davvero noi possiamo utilizzarlo per qualsiasi materia e poi qualsiasi ordine grado come dicevo prima quindi io avevo preso questo qui volete vedere come funziona questo o volete vedere qualcos'altro io vi posso far vedere cosa volete ma io direi questo che così continuiamo l'attività in modo che loro sanno come realizzare un'immagine hotspot certo allora bene abbiamo adesso quando la quando la mia connessione internet ce lo permette bene allora qui noi abbiamo l'immagine hotspot vuota possiamo andare a caricare un'immagine di sfondo che può essere un'immagine dal nostro computer un'immagine da google drive oppure un'immagine online facciamo finta che non ne abbiamo e quindi andiamo a cercare nelle milioni di immagini che ha pixabay andiamo a mettere christmas ad esempio e clicchiamo invio andiamo a prendere un'immagine che ci può interessare facciamo questa vi piace questa bellissimo è un po fa un po vigilia il calore di natale sì esatto 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 possiamo allora andiamo a vedere com'è venuta su anteprima ed ecco che noi abbiamo la nostra piccola immagine messa qui adesso andiamo a creare un hotspot come avete visto prima andiamo a creare un hotspot ad esempio con un non lo so cosa volete facciamo un pop up immagine facciamo un'immagine va bene e poi facciamo il web che è proprio quello che hai messo tu nella cartolina assolutamente sì certo allora anche qui nell'immagine andiamo a decidere che posizione vogliamo dare quindi io direi la tazza vedete che è super malleabile diventa piccolissimo grandissimo a seconda del vai a delimitare l'area del click giusto sì e quindi già noi lo vediamo qui che cosa insomma qual è diciamo dove dobbiamo cliccare poi dove dobbiamo cliccare perfetto e anche qua andiamo a scegliere un'immagine allora possiamo scegliere dal nostro computer io adesso ho scelto dal mio computer ma in realtà non ne ho quindi scherzavo vado immagine online e vado a cercare facciamo marshmallow nella cioccolata calda sì ci sta dai ci sta ci sta mettiamo questi qui ed ecco che qui voilà andiamo a vedere come viene nella nostra anteprima io faccio sempre sì modo tale che così vedo che se c'è qualcosa wow quindi qui anche da un discorso linguistico possiamo dire bene allora perché cosa hai messo questo è un marshmallow si spiega un po anche le tradizioni di natale eccetera eccetera poi andiamo a mettere un link come vi avete suggerito allora un link web io qui posso anche qui andare a scegliere chiaramente mettiamolo qui sui popcorn posso andare a scegliere un link che mi interessa che può essere un link delle tradizioni di natale ad esempio non lo so il link allora posso mettere un link di internet che vogliamo noi oppure andiamo a selezionare il nostro widget e in questo caso io vado a mettere il magico natale ecco qua vedete io ho già pronto l'impiccato ma nella christmas fashion e vado a mettere il magico natale visto? 3 2 1 fatto andiamo in anteprima ed ecco che io cliccando qui vado direttamente alla mia al mio giochetto del magico natale vedete quanto è semplice e quanto è carino l'importante è prepararsi il materiale puoi agganciare e agganciare tutto quindi come dicevi tu prepararti prima tutti i giochi da inserire nella cartolina animata insomma sì sì conviene fare così per il semplice fatto che in questa maniera così si fa più si fa prima poi davvero ci si mette pochi minuti a fare questi giochi perché sono davvero molto molto guidati design anche qua vogliamo mettere un'immagine di copertina perché non vogliamo lasciare triste che poi rimane solo il widget e qua anche qui andiamo a cercare christmas ad esempio visto che siamo e mettiamo la gerla dei doni voilà eccolo qua quindi nella nostra anteprima quando noi andremo a condividere vi faccio vedere come si fa andremo a condividere il nostro prodotto abbiamo il link che andiamo a condividere con i nostri studenti possiamo condividere il QR code che è l'immagine hotspot sempre per i nostri studenti possiamo inviarlo a google classroom o a teams uno short code o la cosa che interessa a noi e cioè condividi il link dell'insegnante in modo tale che più insegnanti insieme possono lavorare sullo stesso documento si è interessante interessante anche perché magari possiamo farlo anche indifferita nel senso che io la mattina posso lavorare su qualcosa te lo condivido tu il pomeriggio lo vai a terminare oppure a modificare a seconda delle competenze che vuoi che i tuoi ragazzi raggiungano andiamo a cliccare qui sopra e abbiamo copiato il nostro link se andiamo su un'altra pagina eccola qua vado a come si fa a creare invece il link per il remix in che senso per il remix questo qui è per creare una copia giusto guarda crea una copia nel mio account tu vai qui sopra e puoi creare nel tuo account e puoi crearti la tua copia e modificarla a tuo uso e consumo ah ho capito che cosa volevi dire questo giusto creare una copia quindi remixarlo e adattarlo alle proprie quindi sono tutti remixabili assolutamente sì assolutamente sì modificabili remixabili potete cambiare qualsiasi cosa veramente eccezionale anche nel pannello di controllo per quanto riguarda le scritte si può fare davvero tanto 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 bellissimo bellissimo veramente una un'idea molto molto carina e se i nostri colleghi e colleghi domani volessero provare possono farlo anche con l'account gratuito domani mattina assolutamente sì perché una volta che ci si iscrive abbiamo un mese gratuito e poi sotto l'albero c'è una sorpresina quindi alla fine del nostro account gratuito abbiamo ancora tre mesi gratuiti per lavorare quindi abbiamo svelato il regalo però abbiamo fatto venire voglia di giocare perché così almeno prendiamo il codice per altri tre mesi di prova gratuita sì benissimo veramente una bellissima idea per le vacanze di Natale un bellissimo regalo per tutti i docenti no hai pensato anche ai docenti che vogliono utilizzare book widget domani domani mattina e quindi noi possiamo tranquillamente creare la nostra cartone di Natale con le sorprese e i regali sotto l'albero certo 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 l'ultima cosa che possiamo è super flessibile avete visto che è facile cosa usare facilissimo e poi l'integrazione con classroom ci piace tanto perché noi insomma da google trainer coach innovator insomma nel mondo google noi amiamo le integrazioni e vi faccio vedere in classroom come dove lo potete trovare e soprattutto però dobbiamo sottolineare che è una donna di google classroom per cui lo possiamo trovare soltanto con gli upgrade della google workspace ovvero con l'education plus oppure la teaching e learning vale la pena investire nell'upgrade del google workspace proprio perché abbiamo veramente tante possibilità di interazione e di integrazione ed una di queste appunto è google classroom che adesso vi mostro qui e vedete che all'interno della pagina del compito avete i componenti aggiuntivi gli add on che in un primo momento non li trovate in questa posizione trovate semplicemente componenti aggiuntivi basta cliccarci sopra e abilitarli ovviamente serve l'autorizzazione dal pannello di admin quindi dal pannello di controllo e quindi possiamo aggiungere tanti applicativi come componenti aggiuntivi tra cui book widget cliccando su book widget vi collega direttamente il vostro account e se avete preparato delle attività così come ha fatto vedere claudia prima basta cliccare e si assegna direttamente come compito come attività ad un gruppo di ragazzi a ragazzi singoli oppure a tutta la classe quindi veramente molto semplice no eh l'integrazione con classroom ci aiuta a semplificare i passaggi perché poi book widget è sempre lo stesso ma i passaggi sono semplificati esatto esatto ricordiamo anche a chi ci segue che claudia ha un fantastico canale youtube che sta scorrendo adesso in fondo quindi scrivete anche al suo canale per essere aggiornati sulle novità anche un canale telegram dove aggiorna un po tutti su quelle che sono le novità quindi seguite come si chiama il canale telegram claudia mi sembra defisa oddio mi avete colto la sprovvista defisa channel seguite questa donna meravigliosa che è una veramente una bomba creativa ed ha mille mila idee mille mila risorse e imparate con lei questo nuovo applicativo book widget perché davvero vi apre quello che è un'altra possibilità in più poi claudia è il nostro ambassador italiano quindi per qualsiasi cosa potete contattare lei e poi anche una patita dell'app meshing quindi seguitela perché vi dà delle delle novità insomma delle integrazioni visto che a noi piacciono le integrazioni possiamo prendere spunto dai dei video di claudia allora claudia io ancora ti ringrazio per essere stata qui con noi in una puntata particolare dove adesso dobbiamo fare gli auguri delle feste ai nostri amici di chiacchiere di chiacchiere tra prof e lì ricordo a chi ci sta seguendo che può seguirci anche sul canale telegram per avere in anteprima le uscite dei nostri dei nostri video e se non vi siete iscritti e siete capitati per caso sul canale di prof creatività digitale iscrivetevi perché settimanalmente ci sono delle novità e soprattutto in questi giorni ce ne saranno tante proprio perché vogliamo farvi anche noi dei piccoli regali di Natale quindi di nuovo tanti tanti auguri a tutti di buone feste feste che possano essere di riflessione di relax ma anche di piccoli spunti creativi che vi possono venire in mente per applicarli all'interno delle vostre attività da gennaio in poi quindi dal prossimo anno Adele facciamo gli auguri allora ai nostri amici auguri a tutti i nostri amici e grazie ancora a Claudio per essere stata con noi grazie mille grazie a voi e tanti auguri a tutti grazie e buona serata e grazie chiacchiere tra prof che siete le numero uno bravissimi grazie 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 Claudio e tantissimi auguri anche a te un grande abbraccio e un bacio grazie ciao a tutti grazie a tutti ciao 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 ciao